Buongiorno, oggi parleremo del neoclassicismo. Con questo termine si indica la ripresa del mondo classico che si verificò nel Settecento. Ma prima di affrontare da un punto di vista artistico la nuova cultura, ci soffermiamo sull'aspetto sociale e filosofico. Da un punto di vista strettamente cronologico, con il Settecento, in particolar modo con la rivoluzione francese, si chiude convenzionalmente l'età moderna, per arrivare poi, dal 1815 in poi, all'età contemporanea. Da un punto di vista sociale, il Settecento è caratterizzato da una ripresa ed una estremizzazione del metodo scientifico galileiano, grazie anche alle scoperte di Isaac Newton. È sempre nel Settecento che parte la rivoluzione industriale, che darà vita poi al grande mutamento sociale dei secoli successivi. Lo sviluppo industriale comportò anche l'affermazione della borghesia, che sempre più prende potere a scavito della nobiltà. Da un punto di vista culturale si afferma l'illuminismo, che pone una nuova visione ottimistica della ragione umana. Fautori delle nuove idee furono i filosofi Immanuel Kant, Denis Diderot e il matematico Jean-Baptiste d'Alembert. In particolare, Diderot e d'Alembert diedero vita all'enciclopedia, ovvero una sistemazione razionale del sapere che mise in discussione la cultura precedente, la sistematizzò, divenendo il punto di riferimento per le nuove idee. Qui è importante fare una distinzione. Anche nel Medioevo c'era una cultura enciclopedica, basti pensare ad opere come la Divina Commedia. Solo la differenza sostanziale con l'enciclopedia illuminista è che tra i due modi di organizzare il sapere si inserisce un cambio di metodo grazie proprio al metodo scientifico inaugurato da Galilei. E veniamo ora al neoclassicismo. Il termine deriva dal latino classicus, da classis, classe sociale, e significa in origine cittadino appartenente alla prima classe di censo. Successivamente il termine passa ad indicare uno scrittore di primo ordine che deve essere imitato, quindi modello. Il termine neoclassicismo, quindi, fa riferimento al mondo greco-romano e poi rinascimentale in cui individua i modelli da seguire. E in un'opera come quella che vedete di Giovanni Paolo Pannini troviamo rappresentate tutte quelle opere sia architettoniche che scultore che fungono da modello per gli artisti del Settecento. Anche se qui siamo ancora in un gusto rococò per il capriccio, l'unione di opere anche distanti tra di loro, è indubbio che il riferimento è il mondo antico. Ma il teorico del neoclassicismo in ambito artistico è sicuramente Winkelmann. Egli scrisse un'opera, Il bello nell'arte, in cui definì a livello programmatico quali dovessero essere i principi a cui gli artisti si dovevano ispirare. Scrisse Winkelmann, la generale e principale caratteristica dei capolavori greci è una nobile semplicità e una quieta grandezza, sia nella posizione che nell'espressione. I termini nobile semplicità e quieta grandezza alludono al gusto neoclassico di rappresentare le scene anche più cruente, stemperate nella posa elegante dei personaggi senza eccessi, senza cedere al sentimentalismo. In questa immagine abbiamo un quadro di Pompeo Batoni in cui l'artista riporta in secondo piano rispetto al personaggio principale i modelli che tutti gli artisti del Settecento guardavano come insuperabili. Questi modelli sono tre, l'Apollo del Belvedere, l'Antino del Belvedere e il Laocoonte. L'aspetto interessante che salta agli occhi dell'osservatore moderno è il fatto che queste tre opere non appartengono in realtà al mondo classico greco ma a quello ellenistico, cioè nel momento in cui l'arte greca si stava proprio distaccando da quella nobile semplicità e quieta grandezza che l'arte presentava fin dal IV secolo a.C. E ciò si spiega con il fatto che proprio nel Settecento comincia l'archeologia moderna con la riscoperta di Pompei per cui il mondo greco non era percepito nella sua complessità e nelle diverse articolazioni che conosciamo noi oggi. Un altro aspetto è interessante sottolineare. Oggi noi sappiamo che le sculture antiche erano policrome, cioè colorate, mentre nel Settecento si immaginava un mondo classico candido. Questo equivoco è ancora dovuto al fatto che all'epoca l'archeologia non era sviluppata come oggi e già nel Cinquecento questa percezione erronea della realtà determinò lo sviluppo della grande statuaria rinascimentale. In quest'epoca in definitiva si viene a creare una sorta di mito del classico e questo atteggiamento è stato letto da qualche critico già come un atteggiamento romantico, cioè irrazionale. Appare chiaro quindi che un'opera come il Laocoonte è tutt'altro che composta secondo i criteri evidenziati da Winkelmann. Basti sottolineare le espressioni di dolore dei personaggi, i movimenti inconsulti, la complessità della composizione. Per finire, in ambito pittorico il modello insuperabile è ovviamente Raffaello, ma il Raffaello classicista, perché abbiamo già visto che lo stesso artista nell'ultima parte della sua attività mise in discussione il linguaggio classicista che gli stesso aveva contribuito a creare per avvicinarsi alla maniera di Michelangelo. E proprio a Michelangelo Raffaello strappa il primato dell'artista più imitato in questo periodo. È proprio nel Settecento che si sviluppa il linguaggio cosiddetto accademico che terrà piede fino a quando nel romanticismo gli artisti metteranno di nuovo in discussione la centralità di Raffaello. Ci vediamo alla prossima lezione.